Fino al 9 marzo, quando il campionato di Serie A non era ancora stato sospeso, erano agguerritissimi. Formazioni studiate sì nel dettaglio, per poter trarre il meglio dai giocatori acquistati nelle aste e ambire a ricco montepremi. Quando il coronavirus ha però iniziato a minacciare l'Italia intera e il nostro territorio, non hanno avuto dubbi. Non c'è più tempo e voglia di giocare. Addio fantacalcio e addio posto in palio, da destinare davvero a chi ne ha bisogno, il sistema sanitario pugliese. Un gruppo di amici del Barese, tra cui anche un bitontino, ha infatti deciso di fare una donazione alla regione Puglia, per poter contribuire alla battaglia contro il Covid-19. Un gesto bellissimo, quello della Lega Money Lukaku 2019-2020, che dimostra quanto i ragazzi possano essere responsabili e generosi. Iniziativa che si spera possa essere copiata anche da altri fantallenatori e non. Ricordiamo che chiunque volesse partecipare alla raccolta fondi potrà effettuare un bonifico di qualsiasi importo sul conto corrente creato appositamente dalla regione Puglia.